Prima che cominci il video ti informo che se stai cercando account modali ai prezzi più bassi in Italia oppure vuoi personalizzare il tuo account con aggiunte soldi, aggiunte rango, aggiunta abilità, full deluxo oppure vuoi semplicemente un salvataggio save wizard, trovi tutto quanto nello shop in descrizione a prezzo più basso d'Italia. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come avete detto dal titolo andremo a parlare di alcuni aggiornamenti che arriveranno su GTA Online, ci sono delle novità finalmente dopo secoli, prima che cominci il video come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche visto che più del 50% di voi guarda i video ma non è iscritto e ci tengo anche a precitare insomma che il gameplay che state vedendo qui a schermo è una mod su PC. Altra precisazione le informazioni che vedrete in questo video non sono ovviamente ufficiali perché non arrivano da Rockstar Games, arrivano da alcuni insiders di Rockstar Games e altre sono semplicemente novità e notizie che appunto Rockstar ha pubblicato. Quindi partendo con la pre notizia come vedete dal video Rockstar Games sta assumendo nuovi responsabili per quanto riguarda il reparto musicale, infatti insomma avete visto nell'ultimo DLC è uscito il Music Locker con tantissime nuove stazioni radio e a quanto pare Rockstar sta continuando per ad assumere un'altra gente che insomma lavora in questo ambito per implementare altre musiche e altre nuove canzoni e magari vedremo in un prossimo DLC oppure nella nuova versione. Infatti come ci dice Testfans 2 non c'è mai stato effettivamente una persona addetta proprio al settore musicale dentro Rockstar Games, lo stanno assumendo proprio per questo motivo. Secondo lui probabilmente per un'eventuale espansione con il prossimo DLC del Music Locker che effettivamente è stato un contenuto poco utilizzato, insomma ci siamo entrati solamente per acquistare il Cosatka. Quindi nuova musica in arrivo su GTA 5 ce lo conferma anche in questo post, infatti il database di Steam è stato aggiornato ancora una volta, questa volta l'aggiornamento è diverso, quindi come vedete questa qui è la clip della pagina della Steam Data insomma dove di solito si vedono i DLC su PC che comunque ovviamente escono anche su PlayStation e Xbox e si vede quando Rockstar sta effettivamente aggiornando il gioco, insomma sta lavorando a patch o a robe simili. Come vedete andando su DLC vedrete l'ultimo aggiunto che risale appunto a 6 giorni fa, vi ripeto è una novità, nessuno ne ha parlato ma ragazzi non vi ho fatto il video subito perché è inutile, come vedete se ci cliccate c'è l'icona di una nota musicale sopra l'icona di GTA 5, non si sa di cosa parla questo mini aggiornamento che hanno implementato che ovviamente non è ancora pubblico, però come vedete se andate nelle altre patch e negli altri DLC non c'è effettivamente l'immagine. C'è solo questa immagine molto particolare con il logo di una nota musicale, tutto questo dopo l'annuncio della ricerca di altri collaboratori musicali. Quindi fatemi sapere cosa potrebbe essere nei commenti. Poi sicuramente vi ricorderete che un paio di giovedì fa era uscito questo tweet di TestFans2 dove appunto diceva che insomma quel giovedì il 15 aprile sarebbe appunto arrivato un nuovo mini contenuto che alla fine non è arrivato. TestFans2 si è giustificato così semplicemente dicendo che ha sentito che effettivamente ci sarà un mini contenuto in arrivo che non è proprio un DLC ma sarà tipo un mini contenuto cosa potrà essere secondo me o la Pantera oppure qualche missione insomma nuova in arrivo su GTA Online. Quindi nulla di grosso però comunque è in programma e quindi tutte le modifiche che stanno facendo potrebbero appunto essere collegate a questo nuovo mini contenuto in arrivo. Cosa potrebbe essere ragazzi o la Pantera o nuove missioni o magari delle gare per go kart che effettivamente non sono ancora utilizzabili ma appartengono ad una classe. E come vedete questi qui sono gli ultimi movimenti nella Steam Data Page come vedete insomma Rockstar sta iniziando a lavorare ad aggiornare. Sono partiti adesso per un eventuale DLC di luglio. Anche se TestFans2 non è proprio convinto che sarà un non grosso DLC secondo lui sarà una specie di mini DLC quindi quest'estate non avremo un DLC gigantesco. Io spero ragazzi di no spero che effettivamente Rockstar ci si metta perché se rifanno un DLC come quello di l'anno scorso ovvero lo Santo Summer Special che faceva abbastanza schifo. Insomma c'era poca roba tre missioni e qualche auto nuova il gioco potrebbe risentirne. Quindi ragazzi queste qui sono tutte quante le novità come vedete nulla di che ma mi avete chiesto insomma di tenervi aggiornato e una volta al mese un video del genere se non escono notizie fenomenali lo posso pur fare. Quindi spero che il video vi sia stato utile vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.